Allora Marino, come ho guardato in centro, ho visto Caputo, però vedevo che comunque era secondata da difensore, quindi ho deciso di sterzare, poi ho visto il portiere sul primo palle, quindi poi l'ho provato, è andato bene, meglio così, su contento. Sì, sì, ma come lo dite, è anche un grande ringraziamento a tutti i giovani, a tutta la squadra, perché comunque stiamo facendo un lavoro di squadra e di conseguenze noi davanti si troviamo meglio. Per quello bene, bene. I applausi fanno sempre piacere, poi è anche giusto, perché qua ci sono sempre state tanto, mi è successo diversi infortuni senza che potessi veramente dimostrare, oggi con la continuità e il lavoro del mister e della squadra che ha sempre assistito per ritrovarmi, mi sento sempre meglio fisicamente, quindi riesco a fare prestazioni migliori. Senti, oggi più che altro è importante dare continuità al pareggio di Brescia, poi oggi abbiamo fatto un'ottima gara e poi segnando anche tre goli, quindi anche per la testa, per tutti quanti è importante. Adesso comunque dobbiamo rimanere sempre ai piedi per terra senza montarsi la testa, perché abbiamo visto che comunque abbiamo fatto niente, siamo sempre lì, quindi dobbiamo rimanere concentrati e lavorare per bene. Grazie. 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 Grazie.